Le questioni verranno illustrate ovviamente inizialmente dal amico di Asti, da Sandro Mortarino, che ci spiegherà questa importante per Asti, ma non solo, vicenda. Qui l'organizzazione di questa serata, come in un comunicato congiunto, si è unito il Comitato di Torino, perché poi magari ci sarà modo di parlarne, questa questione per vari motivi di diverso ordine di importanza e di grandezza, inevitabilmente coinvolge anche il Comune di Torino e indirettamente, mi prometto di dire, tutte le realtà interessate all'acqua pubblica in tutta la regione Piemonte, anche se questo è un problema di prospettiva più lunga. Perché ci siamo? Perché il Comitato d'Acqua di Torino si interessa a questioni che avvengono ad Asti, non è una generica solidarietà, è un'analisi molto precisa su almeno due livelli. Su un livello operativo, perché quello che è successo ad Asti, che poi Sandro ci spiegherà in dettaglio, ha a che fare con una strategia che noi individuiamo ben precisa da parte di IREN per entrare come perno di un futuro gestore unico regionale. E chiaramente quella è la strategia. All'epoca ancora del referendum noi segnalammo un famoso articolo che parlava della grande sete di IREN, rivolta verso SMAT. Nell'articolo si riferiva le ambizioni di IREN e di Global SMAT. Sono passati dieci anni, sono cambiati gli uomini, quasi tutti, c'è da dire che in SMAT non sono cambiati, ma le strategie sono rimaste. Quello che è successo nel Vercellese, quello che è successo nel Cuneese, fanno parte di queste operazioni. Noi riteniamo che anche questo blocco irragionevole alla ripubblicizzazione di SMAT faccia parte di questa strategia. Il secondo aspetto invece è molto più preciso, più apparentemente limitato, è che qui troviamo un esempio di un assurdo comportamento delle amministrazioni locali. Assurdo per due motivi. Perché manca quella leale collaborazione che deve avvenire fra realtà elettive e dall'altra perché il principio, la favoletta del controllo analogo è totalmente saltata. Ma è saltata anche il banale controllo che un proprietario esercita sul proprio pacchetto azionario. Noi abbiamo avuto un litigio che ha coinvolto il comune di Asti e dall'altra parte una società di minoranza che gestisce la multiservizi astigiana, in cui sono presenti una serie di soci. Un socio privato, poi vedremo in che condizioni è uscito questo socio privato, a cui era riservata comunque una quota di proprietà tale da permettergli di esercitare un diritto di veto nelle assemblee straordinarie, di NOS, cioè del socio minimi di minoranza, non di ASP, che poi a sua volta si ribaltava nel diritto di veto nella capogruppo, nella partecipata di un capogruppo. Ma poi abbiamo un pubblico che è diviso in tre filiere. Abbiamo IREN, in cui il comune di Torino è parte del pacchetto del sindacato di controllo, perché fa parte del capitale di controllo, in quanto fa parte del sindacato degli azionisti maggioritari, perché è un ruolo importantissimo, è socio di maggioranza a SMAT ed è socio unico in GTT. A questo punto abbiamo questi pezzi di proprietà pubblica che hanno una politica totalmente scoordinata quando dovrebbero avere, almeno a livello locale, un unico punto di riferimento del comune di Torino. La domanda che noi ci chiediamo è ma dove sono finite le assemblee elettive, quella di Asti, e su questo ce ne parlerà Sandro, e quella di Torino, perché non hanno esercitato un minimo di indirizzo e di coordinamento o perché gli è stato impedito di poterla esercitare. E soprattutto viene fuori l'inconsistenza di questo mitico controllo analogo che è stato il cappello ideologico che ha permesso di giustificare quella che io chiamo la inausa l'italiana, ossia l'affidamento diretto non a società pubbliche, ma a società di diritto privato possedute o controllate, o a questo punto ormai in alcuni casi di fatto semplicemente partecipate dall'amministrazione e dall'ente locale. In più vediamo la totale indipendenza dei manager che fanno la loro politica litigando fra di loro oppure rispondendo in teoria allo stesso proprietario, come se due società controllate dalla stessa holding portassero avanti politiche scordinate e litigiose fra di loro. Questo è veramente l'elemento grave, politicamente grave, che viene fuori a livello di città di Torino, anche se il conflitto si è poi scatenato ad asti. Dov'è il ruolo del Comune che è stato cancellato, il ruolo del Consiglio Comunale? Spaventosa il silenzio degli organi di informazione di fronte a scatenarsi di scontri di potere in cui è impossibile vedere quale sia la strategia. E, cosa più grave di tutte, questo avviene da parte di società che sono possedute in tutto o in parte dallo stesso ente che è il Comune di Torino. Questo è il senso della spaventosa contraddizione che volevamo sottolineare e far comunicare e trasmettere alla cittadinanza, in un certo senso, con dei comunicati stampa. Ringraziamo i consiglieri comunali che sono qui presenti. Io spero proprio per parlare di queste cose. Anzi, se non è riuscito a riconnettersi Sandro, io chiederei a questo punto, e mi scuso con gli amici astigiani, chiederei alle consigliere di Torino di fornire eventualmente la loro riflessione, almeno sulla parte della questione che riguarda Torino, ossia lo scordinamento di pezzi di proprietà del patrimonio comunale. Detta molto brutalmente.